Alla Regione poche idee peraltro confuse, come dichiarato non più tardi di due giorni fa il sindaco Francesca Valenti, ma dall'amministrazione solo il nulla cosmico. Così il Movimento 5 Stelle commenta le ultime novità sulle termini sciacca, quelle venute fuori nel corso dell'incontro che Francesca Valenti ha avuto con il neocomitato civico e relativa ad un bando messo nuovamente da parte della Regione, nonostante il presidente Musumeci e l'assessore Armao ne avessero annunciato la pubblicazione entro la fine di settembre. Il sindaco di sciacca ha dichiarato di essere pronta ad azioni eclatanti e questa assieme all'ammissione di non conoscere i contenuti del bando per il Movimento 5 Stelle e la notizia delle notizie. Pentastellati che se da un lato rimarcano le responsabilità della Regione, dall'altro addebitano all'amministrazione le prime e più gravi inadempienze. Se azioni eclatanti vanno intraprese, sostengono la protesta dovrebbe essere indirizzata verso il Comune. Abbiamo invocato in vano in questi due lunghi anni un ruolo di primordine dell'amministrazione comunale di sciacca rispetto alle scelte che subiva spesso passivamente dalla Regione, dichiarano i pentastellati, ma il sindaco Valenti si è fatta soltanto abbindolare dal governo siciliano, senza peraltro dimostrare di avere le idee chiare sul futuro del termalismo. Nulla affatto, aggiungono, per risolvere il problema delle stufe di San Calogero, non incluse nell'avviso di manifestazione di interesse. Nulla per scongiulare che il convento San Francesco possa essere sottratto alla città. Nulla per la risorsa termale principale, l'acqua evitando che diventi monopolio di qualcuno e non opportunità di sviluppo e interesse di più investitori. E nessun piano B nel caso in cui il bando dovesse andare deserto. Non ha neanche accolto, ricordano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, la proposta di istituire un tavolo tecnico per elaborare idee e ragionare sul futuro delle terme di sciacca. Per questo concludono i pentastellati. È comico sentire che il Comune critica la Regione. Movimento 5 Stelle che non ritiene poi che l'avviso di manifestazione di interesse prima di un bando sia il male dei mali, se servirà a smuovere acque stagnanti anche se andava fatto già da tempo, e che ritiene estremamente positiva la nascita del Comitato Civico per le Terme di Sciacca, con il quale si intende collaborare. Grazie. 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 Grazie.